Ciao a tutti, eccomi qua, la vostra catina cabarista friulucana, finalmente con i capelli tagliati, due chili solo di capelli. Oggi sono qui in tiro a chiedere i vostri voti. Non vi spaventate, non ho nessuna intenzione di entrare in politica e neanche di farmi suora. Adesso vi racconto tutto. Il Friuli è la regione che mi ha accolta e che mi ha dato un lavoro quando sono partita dalla Basilicata per cercare un futuro. E io per questo provo gratitudine e amore per questa regione, che è una regione sorprendente. Poi ha dato i Natali a personaggi illustri, molto famosi, Pierpaolo Pasolini, Ippolito Nievo, Lelio Luttazzi, Elisa. E adesso ci offre l'ennesima chicca. Da studi condotti da persone esperte in questo settore, è emerso che Romeo e Giulietta erano in realtà friulani. Si chiamavano Lucina Savornian e Luigi Loporto. Quindi è stata una sorpresa sapere questa cosa. Perfino Romeo e Giulietta erano friulani. I furlans sono da perdute. Io me l'immagino. E' una cosa bellissima. E il teatro di questo amore fu una villa, Villa Ottelio Savornian, che si trova ad Aris. Questa villa è stata adesso proposta come luogo del cuore del FAI. Però per far sì che lo diventi bisogna che noi votiamo. Ecco i voti che sono a chiedervi. Andate sulla pagina facebook di Villa Ottelio Savornian. Lì c'è scritta la storia, c'è scritto come votare con un clic per far diventare Villa Ottelio Savornian luogo del cuore del FAI. Io ho votato. Tu che fai?